Lezione 1. Fare la spesa. Buongiorno, Anna. Sei riuscito a trovare tutto quello che c'era sulla tua lista della spesa oggi? Buongiorno, John. Sì, sono riuscito a trovare tutto ciò di cui avevo bisogno. È fantastico sentirlo. Hai avuto problemi a trovare oggetti specifici? Beh, non riuscivo a trovare la marca di cereali che compro di solito, ma ne ho trovata una simile. È un bene che tu abbia trovato un'alternativa. Ti sei ricordato di acquistare frutta e verdura fresca? Sì, mi sono assicurato di avere una varietà di frutta e verdura per la settimana. Eccellente! Ti sei ricordato anche di comprare del latte e delle uova? Naturalmente, non dimentico mai gli elementi essenziali come latte e uova. È bello saperlo. Hai visto per caso se avevano sconti o offerte speciali? Sì, ho notato che alcuni articoli erano in saldo, quindi ho approfittato degli sconti. Questo è un acquisto intelligente. Hai preparato tutto e pronto per partire? Sì, ho messo tutto in ordine nelle mie borse e sono pronto per tornare a casa. Perfetto! Hai trovato facile navigare nel negozio? Sì, il layout del negozio era ben organizzato, quindi è stato facile trovare ciò di cui avevo bisogno. È fantastico sentirlo. Avevi altre commissioni da sbrigare dopo aver fatto la spesa? No, fare la spesa era il mio compito principale della giornata. Ho finito con le mie faccende. Questo è efficiente. Hai avuto difficoltà a trasportare tutte le borse? Niente affatto. Sono riuscito a distribuire il peso in modo uniforme, quindi non era troppo pesante. Buon lavoro su questo. C'è qualcos'altro che vorresti condividere sulla tua esperienza di acquisto? Nel complesso, è stato un viaggio di successo. Sono soddisfatto di ciò che sono riuscito a trovare. Meraviglioso! Grazie per averlo condiviso, Anna. Ti auguro una buona giornata. Benvenuto, John. Buona giornata anche a te. Lo faccio già. Che ne dici del compostaggio? Ne vale la pena? Il compostaggio vale sicuramente la pena. È ottimo per l'ambiente. In che modo il compostaggio giova all'ambiente? Il compostaggio riduce gli sprechi e aiuta a creare un terreno ricco di nutrienti per le piante. Sembra utile. Il compostaggio è difficile da fare? Niente affatto. Il compostaggio è semplice, e può essere fatto nel proprio giardino. Capisco. Il compostaggio attirerà i parassiti o creerà cattivi odori? Un compostaggio gestito correttamente non dovrebbe attirare parassiti o produrre cattivi odori. È bello saperlo. Posso compostare tutti i tipi di avanzi alimentari? La maggior parte degli avanzi alimentari può essere compostata, ma evita carne e latticini. Ho capito. Quanto tempo impiega il compost a essere pronto per l'uso? Di solito ci vogliono da alcuni mesi a un anno prima che il compost si decomponga completamente. Capisco. Cosa posso fare con il compost una volta pronto? Puoi usare il compost per arricchire il terreno del tuo giardino o le piante in vaso. Sembra utile per il giardinaggio. Ho bisogno di attrezzature speciali per il compostaggio? Puoi usare un bidone per il compost o semplicemente creare un cumulo di compost nel tuo giardino. Capisco. Ci sono altri vantaggi nel compostaggio? Il compostaggio riduce la necessità di fertilizzanti chimici e aiuta a conservare l'acqua. Questo è ottimo. Ci sono errori comuni da evitare durante il compostaggio? Evita di aggiungere troppo di un ingrediente e mantieni il compost umido ma non bagnato. Buono a sapersi. Il compostaggio è adatto agli abitanti degli appartamenti? Sì. Gli abitanti degli appartamenti possono provare il compostaggio interno utilizzando contenitori speciali. È utile saperlo. Grazie per l'informazione, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di aver potuto condividere con voi il tema del compostaggio. Allo stesso modo, Anna. Sarà una giornata fantastica, vero? Assolutamente, John. Attendo con impazienza una splendida giornata. Cosa ti fa pensare che sarà una giornata fantastica? Mi sono svegliato, riposato e pronto per affrontare la giornata. È un ottimo inizio. Hai dei piani entusiasmanti per oggi? Sì, ho un appuntamento a pranzo con un amico che non vedo da un po'. Sembra adorabile. Il tempo sarà bello per la tua gita? Le previsioni dicono che sarà soleggiato e piacevole, perfetto per un incontro. Questo sì che è fantastico. C'è qualcosa in particolare che non vedi l'ora di fare durante la giornata? Sono entusiasta di una buona conversazione, e di aver incontrato il mio amico. Il tempo di qualità con i propri cari è sempre speciale. Qualche altro motivo per trascorrere una giornata fantastica? Beh, ho anche del tempo libero per dedicarmi ai miei hobby e rilassarmi. Questo è importante per la cura di sé. Hai qualche consiglio per trascorrere una giornata fantastica? Prendersi del tempo per sé stessi, concentrarsi su pensieri positivi ed essere grati. Questi sono ottimi consigli. C'è qualcosa per cui sei grato oggi? Sono grato per la mia salute, le opportunità che ho e le persone della mia vita. La gratitudine è davvero importante. Qualche pensiero finale su come trascorrere una giornata fantastica? Si tratta di trovare gioia nelle piccole cose e di abbracciare il momento presente. Parole sagge, Anna. Grazie per averlo condiviso. Ti auguro una giornata davvero fantastica. Grazie John. Ti auguro lo stesso. Facciamo in modo che sia una bella giornata. Lezione 4. Emozionante viaggio in Europa. Ho sentito che stai partendo per un viaggio. Me ne parli. Sì, vado in Europa. Non vedo l'ora di esplorare le bellissime città. Sembra incredibile. Quali paesi hai intenzione di visitare? Durante il mio viaggio visiterò Francia, Italia e Germania. Wow, queste sono delle destinazioni incredibili. C'è qualche città in particolare che ti entusiasma? Sono particolarmente entusiasta di Parigi, Roma e Berlino. Quelle città hanno tanta storia e cultura. Cosa non vedi l'ora di vedere di più? Sono entusiasta di vedere monumenti famosi come la Torre Eiffel e il Colosseo. Sono luoghi iconici. Ci sono attività o esperienze specifiche che stai pianificando? Voglio provare l'autentica cucina francese, fare un giro in gondola a Venezia e visitare musei d'arte. Sembra un itinerario a tutto tondo. Per quanto tempo viaggerai? Viaggerò per due settimane, dandomi abbastanza tempo per esplorare ogni città. È una buona quantità di tempo. Viaggia da solo o con qualcuno? Viaggerò con un caro amico che condivide la mia passione per l'avventura. È sempre bello avere un compagno di viaggio. Prevedi dubbi o sfide? Le barriere linguistiche e la navigazione con i mezzi pubblici potrebbero essere una sfida, ma sono preparato. È bello sentirlo. Hai qualche consiglio per sfruttare al meglio un viaggio come questo? Ricerca e pianifica in anticipo, ma lascia anche spazio alla spontaneità e alle scoperte inaspettate. Questo è un buon consiglio. Spero che ti diverta moltissimo esplorando l'Europa, Anna. Grazie John. Sono sicuro che sarà un'esperienza indimenticabile. Condividerò le mie storie quando tornerò. Lezione 5. Opzioni di trasporto. Penso che dovremmo pianificare il nostro trasporto per il viaggio. Qualche idea? Sì, è una buona idea. Dovremmo noleggiare un'auto o usare i mezzi pubblici? Noleggiare un'auto ci offre flessibilità, ma il trasporto pubblico può essere più conveniente. Questo è vero. Hai esperienza di guida in paesi stranieri? Ho già guidato in alcuni paesi, ma può essere difficile con regole del traffico diverse. Il trasporto pubblico potrebbe quindi essere un'opzione più sicura e meno stressante. Concordato. L'utilizzo dei mezzi pubblici ci consente anche di immergerci nella cultura locale. Inoltre, può essere più conveniente rispetto al noleggio di un'auto e al pagamento del parcheggio. Questo è un buon punto. I sistemi di trasporto pubblico sono affidabili nei luoghi che stiamo visitando? In generale, le città europee dispongono di sistemi di trasporto pubblico ben sviluppati ed efficienti. Questo è rassicurante. Che dire della disponibilità del trasporto pubblico nelle aree più remote? Nelle aree remote, noleggiare un'auto potrebbe essere l'opzione migliore per accedere a quei luoghi. Questo ha senso. Ci sono attrazioni o attività specifiche che richiedono un'auto? Alcune strade panoramiche o esplorazioni della campagna potrebbero essere più accessibili con un'auto. Capisco. In tal caso, noleggiare un'auto per giorni o località specifici potrebbe essere un buon compromesso. Concordato. Possiamo combinare entrambe le opzioni in base al nostro itinerario e alle nostre esigenze. Sembra un approccio pratico. Possiamo fare ricerche e decidere in base a ciascuna destinazione. In questo modo, possiamo fare le scelte di trasporto più efficienti e convenienti. Esattamente. Grazie per averne parlato con me, Anna. Ci aiuta a considerare le nostre opzioni. Benvenuto, John. Pianificare in anticipo è importante per un viaggio senza intoppi. Finalizzeremo presto i nostri piani di trasporto. Lezione 6. Delizie portoghesi. Ho provato una deliziosa crostata alla crema chiamata Pestel Donata. Era così buono. Gnam. Oh, anche a me piace la donata pastello. Le crostate portoghesi alla crema sono semplicemente deliziose. Sicuramente lo sono. Avete altri consigli per le prelibatezze portoghesi? Sì. Dovresti provare la famosa crostata all'uovo portoghese chiamata Pestel Donata. Pestel Donata? Sembra intrigante. Cosa lo rende speciale? Ha una crosta di pasta sfoglia con un ripieno cremoso di crema pasticcera. È assolutamente divino. Sembra paradisiaco. Mi assicurerò di provarlo. Qualche altro piatto portoghese da provare? Un altro piatto popolare è il baccalà ua bras. Uno strapazzato di baccalà e patate. Baccalà e patate? Sembra una combinazione unica. È gustoso? Sì, è un piatto saporito e confortante. È un alimento base nella cucina portoghese. Ci proverò sicuramente. Ci sono bevande tradizionali portoghesi che dovremmo provare? Dovresti provare il Vino Verde, un vino giovane rinfrescante leggermente frizzante. Il Vino Verde sembra perfetto per un drink estivo. Qualche altro consiglio? Il vino di Porto è assolutamente da provare. È un vino dolce liquoroso e una specialità portoghese. Ho già sentito parlare del vino Porto. Mi assicurerò di assaggiarlo mentre sarò in Portogallo. Ottima scelta. Non rimarrai deluso. La cucina portoghese ha molto da offrire. Sono sempre più entusiasta di provare tutti questi deliziosi piatti. Grazie per i consigli, Anna. Benvenuto, John. Sono sicuro che vivrai un'incredibile esperienza culinaria in Portogallo. Divertitevi. Lezione 7. Ospitalità e assistenza. Grazie per averci aiutato a pianificare il nostro viaggio, Anna. Lo apprezziamo. Siete i benvenuti. È un piacere aiutarvi. Fateci sapere se c'è qualcos'altro che possiamo fare. È molto gentile da parte tua. Ti contatteremo sicuramente se avremo bisogno di ulteriore assistenza. Assolutamente. Siamo qui per rendere il tuo viaggio il più agevole e piacevole possibile. È rassicurante saperlo. È fantastico avere qualcuno esperto su cui contare. Saremo lieti di condividere la nostra esperienza e fornirti tutti i consigli di cui potresti aver bisogno. Questo sì che è fantastico. Avere informazioni locali migliorerà la nostra esperienza di viaggio. Siamo lieti di essere d'aiuto. C'è qualcosa di specifico su cui vorresti avere maggiori informazioni? Siamo interessati a esplorare attrazioni fuori dai sentieri battuti. Qualche suggerimento? Sarebbe fantastico. Siamo sempre pronti a scoprire gemme nascosti. Compilerò un elenco di quei posti per te. Posso aiutarti con qualcos'altro? In realtà, hai qualche consiglio per orientarti con i mezzi pubblici in Europa? Certamente. Posso fornire informazioni su opzioni di trasporto, tariffe e abbonamenti di viaggio. Sarebbe incredibilmente utile. Vogliamo utilizzare il trasporto pubblico nel modo più efficiente. Mi assicurerò di fornirti tutti i dettagli necessari. Fammi sapere se hai bisogno di qualcos'altro. Grazie Anna. La tua assistenza e ospitalità sono molto apprezzate. Siete i benvenuti. È nostro piacere assicurarvi un viaggio meraviglioso. Lezione 8. Successo aziendale. Gli utili della nostra azienda sono aumentati in modo significativo in questo trimestre. È impressionante. Sì, è un risultato notevole. Il team ha lavorato duramente per raggiungere questi risultati. Assolutamente. La loro dedizione e i loro sforzi sono stati notevolmente ripagati. Anzi. Questa crescita positiva è una testimonianza delle nostre strategie e del nostro processo decisionale efficaci. Sono felice di vedere la nostra attività prosperare. È una grande motivazione per tutti. Sicuramente lo è. Il nostro successo apre nuove opportunità di espansione e innovazione. Questo è vero. Dovremmo continuare a sfruttare questo slancio e cercare un'ulteriore crescita. Concordato. Possiamo esplorare nuovi mercati e diversificare la nostra offerta di prodotti. Sembra un piano valido. Dovremmo inoltre concentrarci sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione dei clienti. Assolutamente. I clienti soddisfatti sono la chiave per mantenere il nostro successo e attirarne di nuovi. Avete domande per me in merito ai passaggi successivi o dubbi? Sì, ho alcune domande. Innanzitutto, come immaginate la nostra crescita e il nostro sviluppo futuri? Vedo la nostra azienda espandersi a livello internazionale e abbracciare le tecnologie emergenti. Questo è emozionante. In secondo luogo, quali misure stiamo adottando per garantire una crescita sostenibile? Stiamo implementando pratiche sostenibili, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e riducendo al minimo gli sprechi. Questo è incomiabile. Infine, quali piani abbiamo per lo sviluppo e il coinvolgimento dei dipendenti? Investiremo in programmi di formazione, sviluppo professionale e promozione di una cultura del lavoro positiva. Questo è rassicurante. Grazie per aver risposto alle mie domande, John. Benvenuta, Anna. È importante avere un dialogo aperto e affrontare qualsiasi dubbio. Lezione 9. Fare acquisti insieme Stavo pensando di fare la spesa. Vuoi unirti a me? Certo, mi piacerebbe unirmi a te. È sempre divertente fare acquisti insieme. Fantastico. Trovo più piacevole ed efficiente fare acquisti in team. Sono d'accordo. Possiamo aiutarci a vicenda a trovare gli oggetti di cui abbiamo bisogno e condividere il carico. Esattamente. Inoltre, è un'occasione per trascorrere del tempo di qualità insieme. Apprezzo sempre il tempo che trascorriamo insieme. Rende le commissioni più piacevoli. Lo fa. Inoltre, possiamo scambiarci idee per la pianificazione dei pasti. Questo è vero. Due teste sono meglio di una quando si tratta di idee per i pasti. E possiamo assicurarci di non dimenticare alcun elemento essenziale. Sì, è più facile rimanere organizzati e spuntare insieme gli elementi dall'elenco. Mi piace anche esplorare nuovi ingredienti e provare diverse ricette. Lo stesso qui. È una grande opportunità per sperimentare e scoprire nuovi sapori. Assolutamente. Allora, andiamo a fare la spesa adesso? Andiamo. Non vedo l'ora di vedere cosa possiamo trovare e cucinare insieme. Sarà un viaggio di shopping produttivo e piacevole. Cominciamo. Sono pronto. Facciamo di questo giro a fare la spesa un successo. Allora ce ne andiamo. Insieme conquisteremo i corridoi e troveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Lezione 10. Superare le sfide A volte, ci sembra di dover affrontare infinite sfide nel nostro lavoro. Questo è vero. Ma è il modo in cui gestiamo queste sfide che definisce il nostro successo. Assolutamente. È importante rimanere positivi e trovare soluzioni per superare qualsiasi sfida. Non potrei essere più d'accordo. Essere resilienti e adattabili è fondamentale in situazioni difficili. E avere un team di supporto fa un'enorme differenza nel superare le sfide. Sì, quando lavoriamo insieme e ci sosteniamo a vicenda, possiamo affrontare qualsiasi cosa. È anche importante rimanere concentrati sull'obiettivo finale e non scoraggiarsi. Giusto. Tenere gli occhi puntati sul premio ci aiuta a rimanere motivati nei momenti difficili. Capisco come sarebbe una mentalità importante da avere di fronte alle sfide. In effetti, mantenere una mentalità positiva ci consente di affrontare le sfide con determinazione. E imparare da ogni sfida ci aiuta a crescere e migliorare nel lungo periodo. Assolutamente. Le sfide offrono opportunità di crescita e apprendimento. È rassicurante sapere di avere le capacità e la resilienza per superare qualsiasi sfida. Abbiamo dimostrato più volte di poter superare gli ostacoli e uscirne più forti. Sono grato di avere una squadra così solidale e capace con cui affrontare le sfide. Allo stesso modo, John. Insieme, possiamo vincere ogni sfida che ci si presenta. Questo è lo spirito. Affrontiamo le sfide a testa alta e continuiamo a fare grandi cose. Su questo sono d'accordo con te. Alla conquista del nostro successo collettivo nel superare le sfide. Complimenti per questo. Insieme, siamo inarrestabili. Lezione 11. Catturare momenti. Di recente mi sono dedicato alla fotografia. È un hobby affascinante. Sembra eccitante. Cosa ti piace fotografare soprattutto? Sono attratta dai paesaggi e dalla natura. Mi aiuta ad apprezzare la bellezza che ci circonda. Meraviglioso! La fotografia naturalistica può essere così accattivante e stimolante. Sì, mi permette di catturare momenti e mostrare le meraviglie del mondo naturale. Capisco come sarebbe soddisfacente. La natura ha molto da offrire in termini di bellezza. Assolutamente. È un modo per disconnettermi dal mondo frenetico e trovare serenità. La fotografia può essere una forma di meditazione e di autoespressione. È un'arte bellissima. Non potrei essere più d'accordo. Adoro come una singola fotografia possa raccontare una storia potente. È incredibile come una fotografia ben composta possa suscitare emozioni e trasportarci. Questa è la magia della fotografia. Congela un momento nel tempo e conserva i ricordi. E quei ricordi possono essere custoditi e condivisi con gli altri attraverso le tue foto. Esattamente. È un modo per me di entrare in contatto con le persone e condividere il mio punto di vista. Sono sicuro che le tue foto ispireranno gli altri e li aiuteranno a vedere il mondo attraverso il tuo obiettivo. Sono entusiasta di vedere altre tue fotografie e le storie che racconterai attraverso il tuo lavoro. Grazie Anna. Il tuo supporto significa molto per me. Continuerò a esplorare e crescere in questo viaggio creativo. Benvenuto, John. Continua a immortalare quei momenti meravigliosi e a condividere la tua visione unica con il mondo. Lo farò. Un brindisi alla bellezza della fotografia e alle storie che può raccontare. Complimenti per questo. Possano le tue fotografie continuare a ispirare e portare gioia agli altri. Lezione 12. Dotazioni in camera. Sto pensando di prenotare una camera d'albergo per il nostro prossimo viaggio. Questa è una buona idea. Hai controllato se c'è un bagno privato nella stanza? Sì, mi sono assicurato di selezionare una camera con bagno privato per il nostro comfort. Questo è un sollievo. Avere un bagno privato è comodo e offre privacy. Assolutamente. È essenziale avere uno spazio personale per rinfrescarsi e rilassarsi. Sono d'accordo aggiunge un ulteriore livello di comfort al nostro soggiorno. Inoltre, ci evita i potenziali inconvenienti derivanti dalla condivisione del bagno con altri. Questo è vero. Possiamo mantenere i nostri orari e non preoccuparci di aspettare gli altri. È sicuramente una comodità che vale la pena considerare quando si prenota un alloggio. Sicuramente. C'è qualcos'altro che dovremmo controllare nella stanza? Dovremmo anche assicurarci che la camera abbia i servizi essenziali come un letto comodo e Wi-Fi. Ottima osservazione. Un letto comodo garantisce una buona notte di sonno, e il Wi-Fi ci mantiene connessi. Esattamente. È essenziale trascorrere un soggiorno riposante e rimanere in contatto con le nostre esigenze. Concordato. Vale la pena controllare se ci sono servizi aggiuntivi che potrebbero migliorare la nostra esperienza. Sì, servizi come un mini-frigo o una caffettiera possono rendere il nostro soggiorno ancora più piacevole. Darò un'occhiata al sito web dell'hotel per vedere quali altri servizi offrono. Fantastico. Assicuriamoci di avere tutti i comfort necessari per il nostro viaggio. Assolutamente. Una camera ben attrezzata contribuirà a un soggiorno piacevole e rilassante. Apprezzo la tua attenzione ai dettagli, Anna. Ci assicura un'esperienza confortevole. Grazie, John. Voglio che trascorriamo il miglior soggiorno possibile ovunque andiamo. Non potrei chiedere un compagno di viaggio migliore. Insieme, trarremo il massimo dal nostro viaggio. Questo è sicuro. Ti auguro un soggiorno confortevole e piacevole nella nostra camera d'albergo. Complimenti per questo. Creiamo ricordi indelebili del nostro viaggio con tutti i comfort di cui abbiamo bisogno. Lezione 13. La spesa alla frutta Oggi dobbiamo raccogliere un po' di frutta. Che frutta dovremmo prendere? Compriamo mele, banane e arance. Sono tutte deliziose e nutrienti. Ottime scelte. Le mele sono un classico, le banane sono comode e le arance sono rinfrescanti. Le mele sono ricche di vitamine e forniscono una croccantezza soddisfacente. Le banane sono uno snack facile e veloce, perfetto per ricaricarsi quando si è in giro. E le arance sono succose e ricche di vitamina C, ottima per rafforzare il nostro sistema immunitario. Mi piace il modo in cui ogni frutto apporta il suo sapore unico e i suoi benefici nutrizionali. La varietà è importante quando si tratta di frutta. Garantisce l'assunzione di una gamma di nutrienti. Assolutamente. Assicuriamoci di avere una selezione equilibrata di frutta nella nostra dieta. Questo è un buon approccio. Mantiene le cose interessanti, e ci assicura di ottenere tutto il meglio. Sono contento che siamo d'accordo sulla frutta da acquistare. Renderà il nostro giro di shopping più efficiente. Sicuramente. Avere un piano chiaro rende la spesa più facile e veloce. Apprezzo il tuo contributo, Anna. La tua conoscenza delle scelte salutari è preziosa. Grazie John. Credo nell'importanza di nutrire il nostro corpo con del buon cibo. Insieme, ci assicureremo di avere a casa un cesto di frutta ben fornito. Sembra un piano. Andiamo al negozio a prendere quei deliziosi frutti. Non vedo l'ora di godermi la dolcezza e i benefici naturali di questi frutti. Anche io. A un fruttuoso giro di shopping e a uno stile di vita sano. Complimenti per questo. Abbracciamo la bontà della frutta e nutriamo il nostro corpo. Lezione 14. Morning Fuel Di solito fai una colazione abbondante o hai fretta al mattino? Cerco di fare una colazione sostanziosa per iniziare bene la giornata. È una buona abitudine. La colazione fornisce il carburante di cui abbiamo bisogno per la giornata a venire. Esattamente. Mi dà energia e mi aiuta a rimanere concentrato per tutta la mattinata. Spesso mi ritrovo a correre la mattina e finisco per saltare la colazione. Saltare la colazione può farti sentire stanco e meno produttivo. L'ho notato. Voglio cambiare questa abitudine e fare una colazione adeguata. Vale la pena dedicare del tempo alla colazione. Dai il tono per il resto della giornata. Quali sono alcune opzioni salutari per la colazione che consigli? Puoi provare la farina d'avena con frutta, lo yogurt con muesli o il pane tostato integrale con avocado. Sembrano deliziosi e nutrienti. Li proverò. Ottime scelte. Forniscono un buon equilibrio di carboidrati, proteine e grassi sani. Mi sforzerò di svegliarmi un po' prima e godermi una colazione soddisfacente. Questo è un passo positivo verso uno stile di vita più sano. Il tuo corpo ti ringrazierà. Apprezzo la tua guida, Anna. Hai sempre dei consigli preziosi. Sono felice di aiutarti. Prendersi cura del nostro benessere è importante. Insieme, daremo priorità alle nostre mattine e ci impegneremo per il successo. Assolutamente. Ti auguro una colazione nutriente e una giornata produttiva. Complimenti per questo. Facciamo della colazione una priorità e iniziamo le nostre giornate con il piede giusto. Lezione 15. Conservazione degli avanzi. Abbiamo sempre gli avanzi dopo i pasti. Dovremmo investire in contenitori di stoccaggio per mantenerli freschi? Assolutamente. Avere contenitori adeguati per la conservazione ci aiuterà a ridurre gli sprechi alimentari e a risparmiare denaro. Questo ha senso. Che tipo di contenitori mi consigliate? Cerca contenitori ermetici e adatti al microonde per comodità. I contenitori ermetici manterranno il cibo fresco più a lungo, giusto? Sì, impediscono l'ingresso di aria, rallentando il deterioramento. Questo è importante. Non voglio che i nostri avanzi vadano sprecati. È sempre bene sfruttare al meglio il cibo che abbiamo. Dovremmo scegliere contenitori in vetro o plastica? I contenitori in vetro sono resistenti e non assorbono gli odori. Sono un'opzione migliore per un uso a lungo termine. Capisco. I contenitori in vetro sembrano un buon investimento. Sono anche una scelta più sicura in quanto non rilasciano sostanze chimiche nocive negli alimenti. Questa è una considerazione importante. Dovremmo dare priorità alla sicurezza alimentare. Assolutamente. È essenziale conservare i nostri avanzi in modo sicuro e igienico. Mi assicurerò di acquistare un set di contenitori in vetro per i nostri avanzi. È una mossa intelligente. Ci aiuterà a rimanere organizzati e a ridurre gli sprechi. Apprezzo il tuo consiglio, Anna. Hai sempre soluzioni pratiche. Grazie John. Credo nella ricerca di modi semplici per migliorare la nostra vita. Insieme, trarremo il massimo dai nostri avanzi e ridurremo al minimo gli sprechi alimentari. Sicuramente. Ecco a investire in contenitori per la conservazione e gustare deliziosi avanzi. Complimenti per questo. Diamo priorità alla sostenibilità e facciamo un uso efficiente delle nostre risorse alimentari. Lezione 16. Modifiche alla tempistica di consegna. Qualche modifica dobbiamo apportare? Innanzitutto, la tempistica di consegna deve Si è accorciato. Ultimamente abbiamo riscontrato dei ritardi e ciò sta avendo ripercussioni sui nostri clienti. Concordato. Dovremmo puntare a una consegna più rapida per soddisfare le loro aspettative. Possiamo esplorare opzioni come la collaborazione con un servizio di corriere diverso. Questa è una buona idea. Vale la pena considerare alternative per migliorare l'efficienza. Dovremmo inoltre semplificare i nostri processi interni per accelerare l'evasione degli ordini. Sì, l'ottimizzazione delle nostre operazioni ci aiuterà a rispettare le scadenze in modo più efficace. Inoltre, possiamo investire in migliori sistemi di gestione dell'inventario. Ciò migliorerebbe la nostra capacità di tracciare ed evadere gli ordini tempestivamente. Dovremmo inoltre comunicare con i nostri fornitori per garantire la disponibilità tempestiva dei prodotti. Ottima osservazione. La collaborazione con i fornitori è fondamentale per operazioni senza intoppi. Infine, possiamo offrire opzioni di spedizione rapida per i clienti che necessitano urgentemente dei loro ordini. Fornire opzioni di consegna flessibili consentirà ai clienti un maggiore controllo sulle spedizioni. Concordato. Si tratta di soddisfare le loro esigenze e offrire un'esperienza positiva. Apprezzo il tuo contributo, Anna. Le tue informazioni sono preziose per migliorare i nostri processi. Grazie John. Credo nella continua ricerca di modi per migliorare la nostra attività. Insieme, apporteremo le modifiche necessarie per migliorare i nostri tempi di consegna. Sicuramente. Alla consegna efficiente e ai clienti soddisfatti. Assolutamente. Diamo priorità alla consegna puntuale e superiamo le aspettative dei clienti. Lezione 17. Riflettere sui ruoli Ti è piaciuto il ruolo che hai avuto nel progetto? Sì, è stata un'esperienza gratificante. Mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità. È fantastico sentirlo. Quali abilità specifiche hai migliorato? Ho migliorato le mie capacità di comunicazione e di risoluzione dei problemi. Queste sono competenze preziose in qualsiasi ambiente professionale. Sicuramente. Una comunicazione chiara e una risoluzione efficace dei problemi sono essenziali. In che modo il ruolo ha contribuito alla tua crescita personale? Mi ha sfidato a uscire dalla mia zona di comfort e assumermi nuove responsabilità. Uscire dalle nostre zone di comfort è dove avviene la vera crescita. Sono d'accordo mi ha spinto a imparare e ad adattarmi in diverse situazioni. Questo è encomiabile. Accettare nuove sfide porta alla crescita personale e professionale. Mi ha anche dato l'opportunità di collaborare con diversi membri del team. Collaborare con gli altri porta nuove prospettive e favorisce la creatività. Precisamente. Ho imparato molto dalle intuizioni e dalle esperienze uniche dei membri del mio team. Questo è il bello del lavoro di squadra. Ognuno porta qualcosa di prezioso in tavola. Assolutamente. È stato uno sforzo collaborativo che ha portato a un progetto di successo. Sono felice di sentirlo. È soddisfacente quando il duro lavoro paga. Sicuramente lo è. Provo un senso di realizzazione e orgoglio. Sono orgoglioso della tua crescita e dei tuoi contributi. Hai fatto un lavoro fantastico. Grazie John. Il tuo sostegno e il tuo incoraggiamento significano molto per me. Insieme, continueremo a imparare e crescere nei nostri rispettivi ruoli. Sicuramente. Alla ricerca di nuove sfide, e di uno sviluppo continuo. Complimenti per questo. Continuiamo a sforzarci e a raggiungere nuove vite. Lezione 18. Combustibile per la colazione. Ho bevuto solo una tazza di caffè stamattina. Dovresti mangiare di più al mattino. La colazione è importante per alimentare la giornata. Lo so, ma vado sempre di fretta e finisco per saltarla. Saltare la colazione può farti sentire stanco e meno produttivo. L'ho notato. Devo cambiare abitudine e dare priorità a mangiare un pasto adeguato. Vale la pena dedicare del tempo alla colazione. Fornisce l'energia necessaria per iniziare bene la giornata. Quali sono alcune opzioni salutari per la colazione che consigli? Puoi provare la farina d'avena con frutta, lo yogurt con muesli o il pane tostato integrale con avocado. Sembrano deliziosi e nutrienti. Li proverò. Ottime scelte. Forniscono un buon equilibrio di carboidrati, proteine e grassi sani. Mi sforzerò di svegliarmi un po' prima e godermi una colazione soddisfacente. Questo è un passo positivo verso uno stile di vita più sano. Il tuo corpo ti ringrazierà. Apprezzo la tua guida, Anna. Hai sempre dei consigli preziosi. Sono felice di aiutarti. Prendersi cura del nostro benessere è importante. Insieme, daremo priorità alle nostre mattine e ci impegneremo per il successo. Assolutamente. Ti auguro una colazione nutriente e una giornata produttiva. Complimenti per questo. Facciamo della colazione una priorità e iniziamo le nostre giornate con il piede giusto. Lezione 19. Così Nucan Ahancement. Penso che il nostro angolo accogliente abbia bisogno di qualcosa in più. Sono d'accordo sembra incompleto. Cosa hai in mente? Che ne dici di aggiungere un tavolino per libri o una bevanda calda? Questa è un'ottima idea. Renderebbe lo spazio più funzionale e invitante. Possiamo scegliere un tavolo che corrisponda all'estetica dell'angolo accogliente. Sicuramente. Dovrebbe integrare lo stile generale e la combinazione di colori. Immagino un tavolo rustico in legno o un elegante tavolo in metallo. Cosa ne pensi? Entrambe le opzioni potrebbero funzionare. Dipende dal look che vogliamo ottenere. Possiamo anche considerare le dimensioni e la forma del tavolo per adattarsi perfettamente allo spazio. Sì, dovrebbe essere proporzionato e non sopraffare l'angolo accogliente. Mi piace l'idea di avere uno spazio dedicato ai libri o a una tazza di tè caldo. Creerebbe un'atmosfera accogliente dove possiamo rilassarci e goderci le nostre cose preferite. L'aggiunta di quel piccolo tocco trasformerà l'angolo in un rifugio completo. Assolutamente. Sono quei piccoli dettagli che rendono uno spazio davvero speciale. Apprezzo il tuo contributo, Anna. Hai sempre un grande occhio per il design. Grazie John. Credo nella creazione di spazi che siano sia funzionali che esteticamente gradevoli. Insieme troveremo il tavolino perfetto per completare il nostro angolo accogliente. Sicuramente. Non resta che aggiungere il tocco finale e goderci il nostro accogliente rifugio. Complimenti per questo. Creiamo uno spazio in cui possiamo rilassarci e abbandonarci al relax. Lezione 20. Fitness Endeavors Ehi, ti sei allenato ultimamente? Sì, ho cercato di rimanere attivo, e di incorporare l'esercizio nella mia routine. È fantastico sentirlo. Che tipo di allenamenti hai fatto? Sto facendo una combinazione di esercizi cardio, e di allenamento della forza. L'allenamento cardio e di forza fornisce una routine di fitness a tutto tondo. Esattamente. Il cardio aiuta a migliorare la resistenza, mentre l'allenamento della forza aumenta la forza e il tono. Con che frequenza ti alleni ogni settimana? Il mio obiettivo è almeno tre o quattro sessioni di allenamento a settimana. La coerenza è fondamentale quando si tratta di vedere progressi. Sono d'accordo, gli allenamenti regolari aiutano a mantenere e migliorare i livelli di fitness. Hai notato dei cambiamenti da quando hai iniziato ad allenarti? Sì, ho notato un aumento dei livelli di energia e una migliore forma fisica generale. Questo sì che è fantastico. L'esercizio fisico ha numerosi benefici sia per il corpo che per la mente. Assolutamente. Non si tratta solo di salute fisica ma anche di benessere mentale. Sono felice di sapere che stai dando priorità alla tua forma fisica. È importante prenderci cura di noi stessi, trovare il tempo per fare esercizio. Non potrei essere più d'accordo. Abbiamo un solo corpo, quindi dobbiamo trattarlo bene. Sicuramente. Continuiamo a dare priorità al nostro percorso di salute e fitness. Insieme, resteremo impegnati a raggiungere i nostri obiettivi di fitness e condurremo uno stile di vita sano. Assolutamente. Ecco come rimanere attivi e sfruttare i benefici dell'esercizio. Complimenti per questo. Continuiamo a sforzarci e a raccogliere i frutti di una vita sana e in forma. Lezione 21. Problemi di ricarica. Sono contento di aver trovato una stazione di ricarica. La batteria del mio telefono è quasi scarica. È sempre un sollievo trovare un punto di ricarica quando ne hai bisogno. Sì, soprattutto quando sei in giro e hai bisogno del tuo telefono. Le stazioni di ricarica sono una soluzione conveniente per mantenere i nostri dispositivi alimentati. Ci vuole un'eternità per caricarsi, però. Spero che acceleri presto. I tempi di ricarica possono variare a seconda del dispositivo e del caricabatterie. Immagino che dovrò essere paziente e aspettare che raggiunga una carica decente. Mentre è in carica, puoi concentrarti su altre attività o fare una breve pausa. Questo è vero. È una buona occasione per fare una piccola pausa dallo schermo. Concedersi delle piccole pause è importante per la salute mentale e degli occhi. Lo terrò a mente. È facile rimanere assorbiti dai nostri dispositivi per periodi prolungati. Lo è, ma fare delle pause aiuta a prevenire affaticamento e tensione. Sono grato per le stazioni di ricarica. Sono diventate una necessità nella nostra vita digitale. Sicuramente l'hanno fatto. Forniscono una soluzione conveniente alle nostre esigenze di alimentazione. Il mio telefono ha finalmente una carica decente. È ora di staccare la spina e continuare con la mia giornata. È sempre piacevole avere un dispositivo completamente carico pronto all'uso. Grazie per la conversazione, Anna. Mi ha aiutato a passare il tempo. Benvenuto, John. È sempre un piacere chiacchierare con te. Insieme, restiamo energici e consapevoli del tempo che trascorriamo davanti allo schermo. Assolutamente. Dobbiamo trovare le stazioni di ricarica quando ne abbiamo bisogno e trovare un sano equilibrio. Complimenti per questo. Rimaniamo connessi e carichi mentre facciamo anche delle pause per il nostro benessere. Lezione 22. Comoda biglietteria. Pagherò con la mia carta. Posso ritirare i biglietti alla stazione? Sì, è possibile. Molte stazioni dispongono di distributori automatici di biglietti self-service. Questo è conveniente. Non dovrò fare la fila alla biglietteria. Ti fa risparmiare tempo. Ti consente di ritirare i biglietti a tuo piacimento. Come funzionano le macchine self-service? Sono facili da usare? Sono facili da usare. Basta seguire le istruzioni sullo schermo e inserire la carta di pagamento. Sembra semplice. Sono contento che abbiano semplificato il processo. Fa parte degli sforzi per migliorare l'esperienza complessiva del cliente. Posso ritirare i biglietti subito prima dell'orario di partenza del treno? È consigliabile raccoglierli un po' prima per evitare la fretta dell'ultimo minuto. Mi assicurerò di arrivare alla stazione con il tempo necessario per ritirare i biglietti. Questo è un buon piano. È sempre meglio essere preparati ed evitare stress inutili. Apprezzo la tua guida, Anna. Hai sempre informazioni utili. Sono felice di aiutarti. È importante rendere le esperienze di viaggio il più agevoli possibile. Insieme, gestiremo la procedura di emissione dei biglietti e godremo di viaggi senza problemi. Assolutamente. Alla biglietteria conveniente e a viaggi senza stress. Complimenti per questo. Sfruttiamo la facilità delle opzioni self-service e rendiamo il viaggio un gioco da ragazzi. Lezione 23. Strumenti di formazione. Posso capire. Tuttavia, ho trovato un ottimo clicker per addestrare il mio cane. Meraviglioso. I clicker possono essere strumenti efficaci per l'addestramento dei cani. Aiutano a rafforzare i comportamenti positivi e a stabilire una comunicazione chiara. Come funziona il clicker? È facile da usare? È semplice. Basta premere il clicker per creare un suono distinto. E poi ricevi una ricompensa per associare il suono a un comportamento positivo? Esattamente. Il clicker contrassegna il comportamento desiderato e la ricompensa lo rafforza. Sembra un metodo di allenamento positivo e gratificante. Lo è stato. Il mio cane risponde bene al clicker e capisce cosa mi aspetto. La coerenza e il rinforzo positivo sono fondamentali nell'addestramento del cane. Ho notato un miglioramento nel comportamento del mio cane da quando ho usato il clicker. Questo sì che è fantastico. Dimostra l'efficacia dell'uso degli strumenti di allenamento giusti. È importante trovare metodi che funzionino bene sia per il cane che per il proprietario. Assolutamente. Ogni cane è diverso, quindi trovare gli strumenti giusti è fondamentale. Sono contento di aver trovato il clicker. È stato un punto di svolta nelle nostre sessioni di allenamento. Sono felice per te e il tuo cane. Continuate così. Grazie Anna. Il tuo supporto significa molto. Insieme, continueremo ad allenarci e a creare legami con i nostri amici a quattro zampe. Anzi. Un brindisi di successo nell'addestramento dei cani e nella promozione di solide relazioni con i nostri animali domestici. Complimenti per questo. Adottiamo strumenti di allenamento efficaci. e creiamo connessioni armoniose con i nostri compagni canini. Lezione 24. Le dimensioni contano. Ho bisogno di una taglia più grande. Fammi controllare se è disponibile. Certo. Prenditi il tuo tempo per vedere se abbiamo la taglia più grande. Sì, abbiamo una taglia più grande in magazzino. Questa è un'ottima notizia. È sempre bene avere opzioni e trovare la soluzione giusta. Allora andrò avanti e sceglierò la taglia più grande. Grazie per aver controllato. Siete i benvenuti. Sono contento che abbiamo ciò di cui è bisogno. È importante trovare la taglia giusta per il comfort e la vestibilità adeguata. Assolutamente. L'abbigliamento che si adatta bene migliora sia lo stile che il comfort. Apprezzo il tuo aiuto, Anna. Il tuo aiuto ha semplificato la decisione. Sono qui per aiutare. È importante garantire la soddisfazione del cliente. Ti sono grato per l'eccellente servizio. È stata una piacevole esperienza di acquisto. Sono felice di sentirlo. Fornire un'esperienza positiva è il nostro obiettivo. Grazie ancora, Anna. Procederò con l'acquisto della taglia più grande. Benvenuto, John. Goditi il tuo nuovo capo di abbigliamento. Insieme, diamo la priorità alla ricerca delle taglie giuste e alla moda confortevole. Assolutamente. Ecco gli abiti ben aderenti che ci fanno sentire sicuri ed eleganti. Complimenti per questo. Cerchiamo la vestibilità perfetta e la moda più adatta a noi. Lezione 25. Compagni pelosi Si sta facendo tardi. È ragionevole. Puoi parlarmi degli animali domestici che hai? Certo. Ho un gatto che si chiama Whiskers. È una compagna giocosa e affettuosa. I gatti sono meravigliosi. Com'è Whiskers? Ha dei tratti unici? Whiskers è piuttosto curiosa e ama esplorare ciò che la circonda. Ha anche un lato malizioso. Sembra adorabile. Come hai deciso di avere un gatto come animale domestico? Ho sempre avuto una predilezione per i gatti. La loro indipendenza e la loro natura gentile mi affascinavano. Gli animali domestici portano tanta gioia e compagnia. Sono ottimi per il benessere emotivo. Assolutamente. Avere un animale domestico può ridurre lo stress e fornire amore incondizionato. Sto pensando di prendere un animale domestico. Qualche consiglio o cosa che dovrei prendere in considerazione? Dipende dal tuo stile di vita e dalle tue preferenze. I cani sono le ali e i gatti sono più indipendenti. Ricerca diverse razze e valuta le loro esigenze. Questo è un buon consiglio. Mi prenderò del tempo per pensare a quale animale domestico sarebbe più adatto a me. Prenditi il tuo tempo e scegli un animale domestico che corrisponda al tuo stile di vita e offra un ambiente amorevole. Grazie Anna. Le tue intuizioni sono state utili per prendere questa decisione. Benvenuto, John. Sono felice di poterti aiutare. Gli animali domestici portano tanta felicità nella nostra vita. Insieme, esploriamo le gioie della proprietà di un animale domestico e creiamo legami amorevoli con i nostri amici a quattro zampe. Assolutamente. Non resta che trovare il compagno perfetto per animali domestici e abbracciare le gioie della genitorialità con animali domestici. Complimenti per questo. Diamo il benvenuto ai nostri compagni pelosi e apprezziamo l'amore e la felicità che portano.